In via del lavoro, zona industriale di Asti, gli imprenditori e i titolari di attività produttive hanno deciso di far sentire la loro voce di protesta contro i disagi che stanno vivendo da ottobre, da quando si è aperto un cantiere lungo la strada, sul rettilineo che collega Corsa Alessandria all'ecocentro e che non è mai stato terminato. Ma hanno messo il suolo per svolgere i lavori previsti, a un certo punto tutto si è fermato e l'unica accortezza che è stata fatta per tamponare l'asfalto dissestato è stata quella di gettare della sabbia per oltre 400 metri. Fosse stato solo per alcune settimane nessuno avrebbe avuto da ridire, ma a quasi 5 mesi dall'inizio dei lavori, mai conclusi, i titolari delle attività sono stremati dal dover respirare tutti i giorni non solo lo smog, ma anche la polvere che si alza a ogni passaggio di auto e camion, ricoprendo macchine in segne commerciali, vetrine e perfino i pannelli solari sui tetti dei fabbricati, tanto che hanno smesso di produrre elettricità come in passato. Come se non bastasse, nessun incaricato dell'ASP o del comune passa a bagnare la strada e, a causa anche della siccità, vivere e lavorare in zona è diventato un vero incubo perché non si sa con esattezza quanto dovrebbe ancora durare il disagio fatto di polvere e sabbia. Per questo motivo, oltre 10 titolari di attività hanno chiamato il nostro giornale per sollevare la questione pubblicamente e chiesto al sindaco Rasero di intervenire per risolvere il problema. Oltre alla polvere e alla sabbia che si deposita ovunque, i titolari delle attività denunciano comunque la presenza di incuria in tutta l'area industriale, l'assenza di pulizia, scarso decoro e fanno presente la pericolosità dell'incrocio davanti all'ecocentro tra via del lavoro e via cieca, dove si sono verificati parecchi incidenti a causa dell'alta velocità. Ricordano inoltre la vicinanza della zona industriale al campo Rom di Via Guerra, dove, raccontano, i fuochi continuano a essere accesi. Chiedono quindi al sindaco che si risolvano tutti questi problemi, in particolare quello della strada dissestata, ma anche di essere maggiormente considerati, dal momento che tutti loro hanno attività produttive, che pagano le tasse e danno lavoro a molti astigiani. L'assessore ai lavori pubblici del comune di Asti, Stefania Morra, interpellata a riguardo, replica che il cantiere di competenza dell'ASP è non seguito direttamente dall'ente comunale e comunque a giorni inizieranno i lavori di ripristino del manto stradale.